Pettinari, lei oggi torna a parlare dell'ospedale Covid di Pescara che si trova proprio alle nostre spalle. Lei un anno fa si era rivolto anche alla procura denunciando la presenza di Amianto. È passato un anno e quali sono le novità? Ma io oggi sono arrabbiatissimo perché un anno fa, ricorderete tutti la mia battaglia, un anno e mezzo fa, io scoprì dopo un'interlocuzione corposa con la Regione Abruzzo che all'interno dei pannelli di rivestimento esterno dell'ospedale Covid vi sono fibre di Amianto. Mi hanno confermato questa cosa con dati ufficiali grazie alle mie insistenze e avevo chiesto, prima di tagliare il nastro, perché non si è proceduto alla rimozione dell'Amiando nei pannelli esterni? Punto di domanda. Perché si è lasciato entrare personale, tecnici, dipendenti a lavorare all'interno e utenti prima della rimozione degli Amianto? Ecco, non mi hanno voluto ascoltare. Sono stato costretto a fare un esposto all'autorità giuristiaria perché io faccio sempre esposti alla Procura Repubblica. Oggi mi dà ragione della stessa AS, perché ho scoperto che ci sono diverse determine di affidamento dei lavori urgenti, udite udite, per la rimozione di Amianto nei pannelli esterni dell'ospedale Covid per eliminare, dice la AS, il rischio per la salute degli utenti e del personale. Allora, ditemi voi, si attiva un ospedale Covid, si taglia un nastro, si fanno entrare pazienti e poi dopo un anno ci si accorge che bisogna fare la rimozione in urgenza dei pannelli. È una cosa gravissima. Di fronte a questo io chiedo le dimissioni del Presidente della Regione Marsiglio e le dimissioni dell'Assessore Regione della Sanità. Perché di fronte a queste scelte scelerate politiche, politiche, perché sono scelte politiche, io non l'avrei mai fatto, non avrei inaugurato un nastro prima della rimozione, bisogna dimettersi. Io chiedo oggi le dimissioni, mi devono delle scuse perché mi hanno tutti accusato di fare allarmismo, io ho operato sempre a tutela della salute dei cittadini e oggi qualcuno mi dovrà veramente delle scuse. Inoltre sono state fatte diverse determine di affidamento dei lavori in urgenza, più determine per un importo totale di 27 mila euro, mi chiedo perché hanno fatto più determine, non hanno fatto una gara unica, un appalto unico, si fanno determine. E questa è un'altra cosa che non mi piace, io non l'avrei mai fatto. Mi auguro che presto vengano fatti questi lavori, ma già è troppo tardi perché si doveva fare prima di tagliare il nastro e di mettere all'interno del Covid le persone.